Eccoci qui per parlare di un argomento abbastanza spinoso che è quello sempre caldo delle fake news, chiamatele bufale, chiamatele ipotesi complottistiche, chiamatele come volete, sono sicuramente un danno, un danno perché a fronte di molte bufale che sono assolutamente innocue, sono sbarcati gli alieni o altre cose bagianate simili, a volte ci sono invece delle bufale abbastanza serie, anzi addirittura dannose. Se addirittura il ministero della salute ha dovuto diffondere una comunicazione per dire per sconfiggere il coronavirus non dovete bere la candeggina vuol dire che evidentemente qualcuno stava prendendo questa idiozia come vera. Ci sono anche altri casi ovviamente di bufale, ripeto, meno gravi che non riguardano la salute, le solite scie chimiche, ma non sono qui per fare una carrellata, sono qui per dare una sorta di contributo dopo alcuni studi che ho fatto su appunto diciamo la spiegazione scientifica evoluzionistica, quindi dal punto di vista della psicologia evoluzionistica, del ragionamento per cui le fake news continuano a circolare, continuano a avere questo immenso successo online e non solo, le bufale sono del resto sempre esistite. Allora dal punto di vista evoluzionistico tutto quello che per noi può riservare una minaccia viene trattato dal nostro cervello con appunto un livello diciamo un po' più istintivo e irrazionale, quindi spesso non ragioniamo sulle cose che facciamo, agiamo istintivamente, Kahneman parlava di un sistema 1 di pensieri veloci e un sistema 2 di pensieri più lenti e noi spesso ci facciamo guidare appunto dall'istinto, dalla parte più antica del cervello che è poi appunto la parte del cervello rettile. Detto questo, dal punto di vista evoluzionistico c'è una spiegazione per appunto riguardante le fake news, se mi arriva una notizia e io in qualche modo ci credo, anche se questa è falsa, non mi succede granché, nel senso che dal punto di vista della, chiamiamolo così, dal punto di vista della mia convenienza, se io credo alle scie chimiche e poi queste si rivelano una panzana, a questo punto io non ho perso nulla, nel senso che sono stato attento quando andavo in giro e guardavo il cielo e scrutavo il cielo ma poi in realtà non mi è successo nulla. Ma se invece io sottovaluto una minaccia reale, cioè io sottovaluto una cosiddetta bufala che poi in realtà si rivela vera, a questo punto io posso averne un danno e addirittura mettere a repentaglio la mia sopravvivenza. Quindi da questo punto di vista è molto più logico credere alle fake news che non crederci dal punto di vista, ripeto, istintivo. Poi è chiaro che deve sopravvenire quella parte razionale, quei pensieri lenti che mi consentono di approfondire e capire che la fake news viene da fonti inattendibili, che non sta né in cielo né in terra, che è stata smentita da studi sul campo e via dicendo. Quindi, ripeto, c'è una spiegazione per la quale le fake news si diffondono così a macchia d'olio, ma c'è altrettanto un impegno, ci deve essere un impegno da parte nostra e da parte tua, di verificare sempre la notizia prima di diffonderla. A volte, pensa, basterebbe addirittura leggere un articolo e non soltanto il titolo. Io mi chiamo Gianluigi, trovi per esempio un videocorso intero sulle fake news sul mio sito. Lascio qui nelle note di questo video tutti i riferimenti per andare a vedere appunto il videocorso gratuito. Vieni quando vuoi su gianluigibonanomi.com per trovare tanti altri approfondimenti. Ciao!